Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci con possibili disagi alla circolazione. In direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra Barberino e Calenzano. Sulla A11 in direzione Firenze code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola. Rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e il Bidio per la A1. Sulla FIPI-Li rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo di Cole Valdelsa Sud in entrata in direzione Firenze. Sulla statale Trebis-Tiberina è chiuso lo svincolo di Sansepolcro Sud in direzione Roma per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!